Dall'energia ai rifiuti, dall'acqua al trasporto, gli occupati nei servizi pubblici della Toscana continuano a crescere. Lo dice l'indagine effettuata dal CISP e il Conf Servizi relativamente alle 200 aziende associate che a livello regionale valgono 3 miliardi di euro di fatturato annuo e 15 mila dipendenti. Un monitoraggio da cui emergono due elementi non di poco conto per l'intera economia toscana. Stabilizzazione di lavoro contrattuale a tempo indeterminato per oltre il 95% e nello stesso tempo capacità delle nostre aziende di fare sistema, di fare investimenti in una fase fortemente anticiclica come quella purtroppo nella quale ancora siamo. Un settore insomma dalle grandi potenzialità economiche ed occupazionali e che anche alla luce della recente riforma del lavoro approvata dal governo punta ad essere sempre più strategico per lo sviluppo economico e il benessere delle comunità locali. E se da un lato l'associazione chiede in generale al governo una maggiore programmazione e regole proprie che valorizzino le specificità del settore, dall'altro il presidente De Girolamo lancia all'esecutivo Renzi una proposta ben precisa. Noi ci potremmo candidare anche per gestire quella mole di disoccupati degli altri comparti che in qualche modo il provvedimento prevede vanno reinseriti dopo averli formati e che le nostre aziende sono in grado di fare. Alla vigilia della manifestazione nazionale a Roma contro i tagli al personale delle province previsti dalla legge di stabilità, CGL, Cisle e UIL hanno organizzato davanti alla sede della regione toscana mentre era in corso la riunione dell'osservatorio regionale Legge del Rio, un sit-in di protesta per chiedere la salvaguardia dei 1500 posti di lavoro a rischio dopo la riforma. Al presidio hanno partecipato decine di dipendenti di tutte e dieci le amministrazioni provinciali toscane. Al centro della mobilitazione le conseguenze di una misura contenuta nella legge di stabilità del governo Renzi che prevede di ridurre di 830 milioni di euro la spesa per il personale delle province e delle città metropolitane alla luce della riorganizzazione delle piante organiche. Con alcuni emendamenti previsti dalla legge di stabilità si sta di fatto cercando di smantellare servizi e personale. Non solo tagli al personale ma anche servizi erogati, la sicurezza nelle scuole, la manutenzione delle stade provinciali, il controllo sull'ambiente e l'assesto idrogeologico. A questo chiaramente sono legati in maniera sostanziale i servizi ed è del tutto inaccettabile per i cittadini in primo luogo e per i lavoratori che questi servizi garantiscono. Sindacati e lavoratori chiedono quindi al mondo politico e alle istituzioni la modifica della legge di stabilità, il rispetto del protocollo di garanzia fra governo e sindacati e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Chiediamo di cambiare questa legge che è molto sbagliata soprattutto per i servizi che la provincia sta erogando e che smetterà di erogare tra poche settimane. È stato un duro colpo sapere che il pagamento del Limu non era più cadenzato per il 16, cioè sono stati messi a rischio i bilanci di alcuni comuni con questa decisione senza che fosse comunicata poi una data immediatamente entro la quale si sarebbe poi dovuto effettivamente pagare. Il problema più che economico è di cassa, cioè disporre di soldi nelle casse. Come funziona quando non ci sono i soldi nelle casse? Bisogna andare in banca, chiedere un prestito e pagare degli interessi o chiedere uno scoperto. Questa è la stessa cosa che avviene per i comuni. Il Comune di Firenze non ha mai fatto ricorso a un anticipo di tesoreria, così si chiama la richiesta di scoperto. Avremmo dovuto farlo per far fronte al pagamento degli stipendi, dei mutui, del pagamento all'impresa e quindi era una cosa, a nostro avviso, di difficile percorribilità e comunque onerosa, senza un motivo oggettivo. La città non era in ginocchio, la città è in grado di poter far fronte all'imposte che erano in scadenza il 16 che vengono spostate a questo punto di una settimana. Un'ultimissima cosa è stato un po' un pasticcio quello del Ministro? Sicuramente è stata un'incomprensione. La Regione Toscana ha trasmesso lo stato di calamità, la richiesta di intervento, però faceva fronte a dei danni subiti che erano di un'entità molto minore rispetto all'atto che è stato fatto, che forse è stato eccessivo rispetto a quello che effettivamente è accaduto.